Sesta corsa premio Zarina d'Isa e la corsa del convegno riservata ai gentleman drivers sono 9 cavalli alla via sono anziani a reclamare ha ritirato il numero 9 di Ove Cip SM la prima fila dunque è al completo con il numero 1 di Odeon dell'Idea il 2 di My Little Boss il 3 di Pachy Fox il 4 di Penelope S il 5 di Principe Man il 6 di Nives il 7 di Niemen la seconda fila per l'8 di Platini e il 10 di Ninirod che chiude da favorito al gioco con cautela il 7 di Niemen che rinuncia all'allineamento lo stacco della macchina con Principe Man e Nives che emergono nei confronti di Penelope S con Principe Man che sembra intenzionato a correre in avanti ma Nives è decisa a chiedergli strada e insiste dopo il lancio molto veloce in 13-3 c'è Nives che di forza sta superando Principe Man che ora ha deciso di non opporsi più all'avversario e quindi Nives è leader ma sullo slancio completa un primo quarto decisamente molto molto veloce in meno di 29 la terza posizione la corda per Penelope S che ha già all'esterno Ninirod e più indietro il gruppo capeggiato da Pachy Fox che precede Odeon degli Dei, Platini, Niemen e My Little Boss ancora sullo slancio Nives impone andatura sostenuta questo sta mettendo un po' in difficoltà Ninirod che cercava di avanzare sui primi sullo slancio Nives va a completare metà gara addirittura in 58 con margine di vantaggio netto su Principe Man Ninirod che rinnova la sua avanzata dopo aver sostato al lato di Penelope S che ora sbaglia e allora più indietro la quarta posizione è per Pachy Fox davanti a Odeon degli Dei nel frattempo il giro di Nives è nell'ordine addirittura dell'1.13 mentre Ninirod è riuscito a scavalcare Principe Man e a guadagnare la seconda posizione più indietro Odeon degli Dei affianca Pachy Fox ma Nives è ancora in chiara evidenza quando mancano 300 metri alla conclusione il ritmo è leggermente calato ma continua su ritmi notevolissimi Nives che infatti affronta da netta leader la retta d'arrivo inseguita dal favorito Ninirod più indietro c'è Principe Man mentre sbaglia Odeon degli Dei Nives è ancora in chiara evidenza Ninirod prova ad inseguirla ma sembra davvero intangibile Nives praticamente da un capo all'altro un percorso a ritmo sostenutissimo per una vittoria per dispersione per Nives nei confronti del favorito Ninirod più indietro per il terzo posto dovrebbe essere forse ancora Principe Man a tenere a bada Pachy Fox 1.58.5 sul mio cronometro in una corsa di categoria abbastanza modesta si è viaggiato sul piede dell'1.14 con Nives che è passata di forza su Principe Man 6.10.5 l'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle Anche iscriviti al canale